La spirale di violenza inaudita di Napoli in questo periodo, in questi giorni, un uomo che non consegna il suo scooter a due rapinatori e per questo viene gambizzato. Solo pochi giorni fa un ragazzo ucciso per una scarpa che era stata sporcata e ne era nata una lite. Il cuore di Napoli batte sempre più forte, le emozioni uniche della città che guarda il mare, la primavera del turismo, la vivacità culturale, il folklore coinvolgente e adesso perfino il sogno, sempre più vicino dello scudetto. Ma c'è una Napoli in cui il battito è accelerato e non solo nelle periferie, per la paura delle pistole facili, delle rapine violente, il lato buio e criminale, rumoroso ed eclatante, al punto da mettere in ombra le sue meraviglie. Un video descrive più di mille parole la situazione. Mercoledì sera, ora di cena, un ingegnere di 32 anni sul suo scooter si ferma a fare benzina. Lo affiancano in due su un altro motorino, gli intimano di scendere dal mezzo per portarglielo via e di fronte alla resistenza decisa del proprietario tirano fuori la pistola e gli sparano alla gamba che ha rischiato di perdere. Si spara in pubblico per un motorino, si spara e si uccide anche per un'offesa o un affronto, come aver sporcato una scarpa comprata da poco, il movente che avrebbe portato alla sparatoria che dieci giorni fa ha ucciso il diciottenne Francesco Pio Maimone, un bravo ragazzo che non c'entrava niente. Troppo facile procurarsi un'arma, ha detto solo pochi giorni fa il prefetto di Napoli. Si stima che ce ne siano almeno 15.000, la metà circa detenute illegalmente. Troppe pistole in città per acquistarne una sul mercato nero possono abbassare 1.500 euro, armi che servono alla camorra per comandare, per gestire le piazze di spaccio, per regolare i conti, ma che spesso se le portano dietro pure i ragazzini per sentirsi importanti. Macchie su una tela di inestimabile valore con dipinta Napoli, che negli occhi di chi la visita splende è in fermento per ciò che di bello sta vivendo, un rinascimento anche calcistico che si respira nelle vie popolari e affollate di azzurro. Il colore che si trova ovunque a vestire foto, magliette e bandiere che sventolano in attesa del terzo scudetto. La fantasia è l'estro che travestono pizze e dolci con l'immagine dei protagonisti della cavalcata sportiva, il cuore grande di Napoli che vuole battere solo per le sue sane passioni.